Eeeh, bulla ragazzi, come sempre travi scrivi per le oggi sono qui tornato con un nuovo video su Fortnite Oggi ragazzi andremo a giocare in singolo nella nuova, nuova tra virgolette, tra molte virgolette, modalità oro massiccio in singolo Quindi raramente si trova in singolo questa modalità, la voglio provare, voglio provarla con voi, vediamo come va a finire Non registrerò con la facecam ragazzi perché semplicemente ho un attimino un problema di ordine Quindi devo vedere un attimino come metterla, insomma mi devo organizzare, questo video sarà senza webcam ragazzi Infatti faccio quest'intro, poi la spengo e mi metto a giocare e sentirete solamente l'audio Ma solo per un problema di organizzazione e anche perché fa molto caldo tenere la luce puntata, insomma non è il massimo ragazzi Quindi perdonatemi per questo disagio temporaneo, nei prossimi video spero ci sarà la webcam, spero di riuscire a organizzarmi Guardate che occhiaie, che faccia che ho perché veramente ragazzi sto passando un periodo veramente impegnativo della mia vita Quindi perdonatemi se vedete pochi video però mi ci impegno veramente tanto ragazzi, mi sto impegnando veramente tanto Per riuscire a fare sempre meglio e dei video sempre un po' più carini Comunque ragazzi non sto nella pelle, proviamo questa nuova modalità Inoltre vi ricordo di supportarmi come creatore su Fortnite se shoppate qualcosa Quindi codice creatore Just Travis con una S sola Ma adesso andiamo a giocare Ah ma c'è anche sto fucile che hanno tolto? Ottimo, purtroppo c'è pure il robottone Quindi ci dovrebbe essere un sacco di gente tipo Che palle comunque quel coso io non lo concepisco, cioè non mi piace Ma non perché sono una persona competitiva che odia queste cose Ma proprio perché obiettivamente non è divertente, cioè nel senso Non... ma perché si apre così in alto Cristo? Vabbè teremole giù Ehm... obiettivamente non... Boh non lo trovo divertente, non lo trovo Una cosa da inserire in un gioco del genere Ma ripeto non per l'aspetto competitivo ma proprio perché Boh non ne trovo il senso davvero Eccolo Vabbè dai Poi lo abbiamo indebolito Servirebbe un bel pompa Oh questa vera buona Ecco la pompa De Cristo Io tra l'altro non sono ancora riuscito a capire se sto pompa mi piace o meno Ma quello che cazzo sta facendo? Dai un colpo, un colpo, un colpo, un singolo colpo Dai un singolo colpo, non farmi incazzare Perché a me l'ultimo colpo non entra mai? C'è uno infatti qui dentro No è fuori Ok Ah non ci sono più i rift Ario giochi in me? Sì l'ho visto il lama Oddio in realtà ho il fuoco quindi la slurp sarebbe la scelta migliore da fare Eh il barrette non sarebbe male come roba No 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 Fuck No Allora qui forse qualcuno lo troviamo Non posso essere uscito solo io dalla safe dai Hey bitch Oh il primo colpo comunque lo devo sempre cannare Ma solo quando registro In sta modalità comunque Oro massiccio La gente sta immobile Non capisco perché Oddio non è che è in singolo però Qui stanno proprio fermi che sembrano Parti del Ti prego No Merda Merda Me lo facevo easy questo Che palle ho Mamma mia Eccolo un altro Questo c'è pure un predicto abbastanza easy E non lo prendo Niente non si gira lui Imperterrito Corre Barrette comunque è sgravato Questo dove cazzo vai Io voglio capire Beh regamo le scale dove cazzo me le fa Ma Merda No questo era preso Questo era preso No no Perché Perché sta cosa Deve succedere Allora io mi tirerei la slurp Prenderei gli shieldini E metterei una bella jump Prima che No Riccardo ma che cazzo ho fatto Ho sprecato un fuoco così E vabbè Oh è questo Non voglio sbagliare il colpo Perché poi Ci rimetto E ho sbagliato il colpo Eeeh Ti pareva Va bene Oh Oh Vaffanculo va Comunque il combattoro c'è e ce lo prendiamo perché è veramente sgravato Con fronte a quello che io Hai visto quanto cazzo di danno mi ha fatto sto tipo Nooo si è coperto all'ultimo Oh un rift Mi sento malissimo Cioè con questo potrei veramente Oh bitch Questa era bella Questa era bella dai Mamma mia se non lo prendevo Ok terriamo lì e cerchiamo di fare sto tipo Chi è? Ho sentito qualcuno con le cose Poi se perché non gli ha sparato con lo scar? Che son coglione Ok 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 Forca troia quanto l'ho rischiata Devo smetterla di fare il coglione Ok ci siamo però non mi basta Cioè sinceramente non mi basta Nel senso che La mia vita non va bene Ah ma gli ultimi due sono qui Quello ha i scildini però comunque deve uscire No ma quello non è l'ultimo Cristo Eravamo quattro non tre Madonna mia che odio Quello è one shot Quello è one shot perché lui era white Adesso anche se si saranno fatti i scildini Comunque sarà one shot La prima cosa positiva è che lui sta sprecando Una marea di materiali per fare questa cosa Ok io ho tolto un bel po' di scudo Tocca capire l'altro dove cazzo sta però Mi sta salendo l'ansietta No Madonna mia che rischio Che rischio Io ho paura che quell'altro Oh ma qui c'è un loot Potrei godere come un cane Godo Ma basta con questi inviti madonna La cosa che mi furisce è che se un barrette mi prende Sono morto Che fa 157 Io ho 150 Però l'aigra non lo voglio abbandonare Cioè Non voglio usciare No 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 Guarda guarda quanto era one shot sto figlio di puttana Guarda quanto era one shot sto figlio di puttana Guarda 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 lui ha vinto il gunfight Giustamente perché io sono un cretino Io sono un cretino Ovviamente Invece di rimanere in high ground vado giù Sono un cretino Balla su sto cazzo Coglione Mortacci tua che culo Ho lasciato i colpi di pompa come al solito Mio madonna mia Madonna mia Ero troppo agitato Questo è rimasto contro l'ultimo Che sicuramente sarà un coglione Perché è sicuro che sarà un coglione Perché non si vede E invece Il coglione vince con due kill Incredibile signori E' così E' così fornite Ecco chi ha vinto Vabbè comunque ci sta Buona partita Buona partita